A passi. Ah porco, la salsiccia. E lei, Giulietta, mi scusi, eh? Stavo parlando con un collaboratore. Pronto già, mi ascolti? Sì. È molto importante. Caroline fa la doccia e io ne approfitto. Ecco. Mia figlia vorrebbe sposare un suonatore di tromba. Uno strimpellatore? Un negro? No, è bianco. O meglio, è verde. Capirà, suona tutta la notte all'elefante rosso. Non vedo che nessuno ci sia. Arrivano i miei allievi. Aspetti un secondo, vado in camera sua. Non se ne vada, eh? No, no, non me ne vado. Mary France? Sì, signora. Riaggancia appena alzo il ricevitore nell'altra stanza. Sì, signora. E non ascoltare. Oh, signora. Cominciate a provare, ragazzi, non mi aspettate. Puoi attaccare, cara? Bene, signora. Ecco, ha riattaccato. Pronto? C'è ancora, Jean? Ma come? Ah, la mia salsiccia. Mi ascolta, vero? Sì, sì, ascolto. Allora? Lo sa, Caroline, è ancora una bimba. È non molto furba. Sì, ma... A lei, Dan. Allora, che vuole? Quando torna a casa, lei deve parlarle. È ignobile approfittare della doccia. Se tu bari, non mi lavo più. Tanto per cambiare. Jean, non darle retta, bara. Ma vuoi lasciarmi parlare? No, voglio parlarti io. Eh, subito. Mettila. Sei insopportabile. Ehi, una alla volta, eh. Non voglio che mia figlia sposi un trombettiere. Non è vero, è un ragazzo formidabile. Mamma ha dei pregiudizi borghesi. Io pregiudizi? Oh, questo è troppo. Pregiudizi borghesi. Mi stia sentire, Jean. A 14 anni era l'Epolite Argera. A 18 alla Comedie Francaise. Ho fatto il Sara a dorso di cammello col figlio del Pasciano. Ho cantato Don Burgo. Ho un fiol di carriera, le pare? Ma quando mi è servito un marito, mi sono sposato un prefetto. E io invece sposerò un trombettiere. Vieni, giuro. Siete matti. Mi dica almeno il suo parere. Si tratta dell'avenire di Carolina, è molto importante. Se solo puoi aiutarmi, andiamo. Mi scusi, capo. Rinviate il dibattito al mio ritorno. È un ordine. Sono il padre spirituale di Carolina, sì o no? Bene, Jean.